Una nuova alba sorge sulla via Aurelia ed illumina una preziosa perla, l'oasi Castel di Guido. La nuova alba sorge sulla via Aurelia. La nuova alba sorge sulla via Aurelia. La nuova alba sorge sulla via Aurelia. La notte qui a Castel di Guido ha preso il sopravvento e in questo meraviglioso stagno, nel silenzio, la voce degli amfibi. I rossi smeraldini, i raganelli, i rane verdi, di tutto. Una cosa veramente meravigliosa. Lo stagno non è soltanto una semplice pozzata d'acqua e basta, ma è di vitale importanza per tutti noi amfibi che qui veniamo a riprodurci ed è fondamentale per tutte le altre specie animali che vivono in questo territorio. E adesso, se non vi dispiace, vi saluto, altrimenti nemmeno una femmina disponibile mi rimane. Grazie. 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 Grazie.